Buongiorno, benvenuti a tutti, benvenuti agli studenti, benvenuti alle colleghe e benvenuto al dottor Barbarossa, grazie di aver accettato il nostro invito. Oggi parleremo di corsi di linguaggio giuridico. Grazie. Bene, scusate questo piccolo problema tecnico, come avete compreso non sono la delegata dell'informatizzazione della facoltà, ma io mi chiamo Elena Ioriati, sono professore di diritto comparato e sono la delegata del preside presso il centro linguistico di Ateneo. Ora fra breve conoscerete le nostre docenti di linguaggio giuridico, la professoressa Silvana Dalla Bontà che è delegata alla didattica del preside che già conoscete. Io vorrei solamente dire alcune parole introduttive sul linguaggio giuridico, probabilmente anche rispolverando delle conoscenze che voi già avete, ma è sempre molto utile ricordare la ragione per la quale si studia il linguaggio del diritto. Allora, il diritto dal punto di vista etimologico ha origine dalla parola dirittum, il participio passato di dirigere. Come ricorderete è composto da regole specifiche attinenti all'ambito giuridico, appunto, a norme giuridiche e il diritto è, diciamo, garantito, è il diritto ad atto effettività da delle istituzioni che nella maggior parte degli ordinamenti giuridici compongono la magistratura. La norma giuridica va distinta dalla norma sociale, dalla norma religiosa, dalla norma morale, ma a volte, come ricorderete, la norma giuridica è solo la punta dell'iceberg di regole che in origine avevano una connotazione non giuridica. La maggior parte degli ordinamenti giuridici attuali formulano il diritto in forma scritta e questa è la ragione per la quale io ho scritto, appunto, diritto scritto, scusatemi il gioco di parole, dando evidenza a questo aspetto, ma il diritto può essere anche non scritto, non verbalizzato e può essere espresso anche attraverso segni, come vedremo molto brevemente. Allora, attraversiamo tutti questi aspetti del diritto con, diciamo, il supporto di alcuni piccoli esempi e cominciamo con un esempio relativo a una situazione di fatto nella quale immaginate di entrare in un'aula e dare una spinta maldestra a un vostro compagno o ad una vostra compagna che subisce un danno si spezza un braccio. Allora, voi sapete che nell'ordinamento giuridico italiano questa fattispecie è qualificata come responsabilità extracontrattuale ed è definita dall'articolo 2043 del Codice Civile che voi tutti conoscete molto bene, ma io vorrei attraere la vostra attenzione su alcuni concetti giuridici che compongono questa norma. Doloso, colposo, danno ingiusto, risarcire. Questi concetti giuridici compongono il linguaggio giuridico italiano e voi studenti immatricolati presso la facoltà di giurisprudenza lo studiate nel momento in cui frequentate le lezioni, ad esempio, del primo anno. Per cui nella facoltà di giurisprudenza voi studiate il linguaggio giuridico italiano unitamente al diritto italiano, ma lo fate. Voi seguite delle lezioni e apprendete un linguaggio giuridico senza esserne consapevoli. Questo significa che il linguaggio giuridico è fondamentale, ma mentre nel diritto italiano è intrinseco, nella formazione in diritto italiano è intrinseca, nelle altre lingue non lo è. E questa è la ragione per la quale noi offriamo i corsi di linguaggio giuridico, dei quali parleremo fra breve. Ora, proseguendo, il diritto, il linguaggio giuridico evolve. Se osservate la norma del Corico Civile, articolo 315, noterete che ad oggi questa norma è formulata con queste parole. I figli devono rispettare i genitori. Ante riforma del diritto di famiglia del 1975, questa norma prevedeva la parola onorare, per cui il diritto evolve e così evolve il linguaggio giuridico. Il diritto a volte non è verbalizzato, a volte il diritto non è espresso attraverso parole e questo accade con la consuetudine. Forse non tutti voi sanno, sono a conoscenza del fatto che quando acquistate un immobile, il compenso che il cosiddetto mediatore gli richiede non è oggetto di una norma giuridica, ma di una consuetudine, per cui è una norma non verbalizzata. Il diritto africano è un diritto non solo non scritto, ma nemmeno espresso, non verbalizzato e è un diritto gestuale attraverso il quale, ad esempio, la condanna all'esilio in un villaggio del Mali viene compiuta con un gesto della mano. Esiste dentro il diritto, che io chiamo il diritto disegnato, che è il diritto che si esprime attraverso segni non fonetici, ideogrammi e che interessa le culture cinese, giapponese e le culture orientali. Ecco, vi volevo ricordare che l'Unione Europea ha in corso un'iniziativa per la creazione della lingua giuridica per non udenti attraverso i segni. Ora, tutto questo ci porta a porci una domanda. È nato prima l'uovo o la gallina? Ossia, è nato prima il diritto o è nata prima la parola? Allora, la risposta è implicita. È nato prima il diritto, perché il diritto emuto è proprio delle culture di tutte le società e l'uomo da sempre crea diritto dando semplicemente esecuzione ad una regola. Anche noi oggi, quando esercitiamo la servitù perediale o il diritto di possesso, non verbalizziamo la parola possesso o servitù prediale, semplicemente compiamo un gesto, una serie di atti che in origine erano ritualizzati, per cui le relazioni giuridiche sono state conformate per molto tempo e lo sono tuttora senza l'uso della parola, successivamente la regola giuridica viene verbalizzata e formulata in norma scritta, per cui il diritto in epoca preistorica esisteva, ma non era verbalizzato. Il diritto verbalizzato nasce nel continente in epoca romana, in Inghilterra come vedremo fra breve, ma lo ricorderete con la nascita dell'ordinamento giuridico inglese e con la nascita del diritto nasce il linguaggio giuridico, ossia un linguaggio del diritto creato che appoggia su un apparato di conoscenze elaborate scientificamente ed è composto da un vocabolario colto, dai cosiddetti concetti giuridici. In alcune parti del mondo, come ricorderete, appartenenti alla famiglia romano-germanica, il linguaggio con il quale si esprime il diritto è composto da termini astratti. Questo linguaggio nasce al tempo dell'impero romano ed è creato dal giurista la parola responsabilità extracontrattuale a un forte carico teorico e astratto, mentre in altre parti del mondo, nella famiglia di Comolo, il linguaggio con il quale si esprime il diritto è composto da termini caratterizzati da maggior concretezza. La parola tort ha quasi una portata onomatopeica e ricorda la parola torto in italiano, mi è stato fatto un torto, per cui da un segnale molto concreto. Per cui, tort, responsabilità extracontrattuale, dryly seat, e qui mi fermo perché il mio tedesco non è sufficiente per individuare il concetto giuridico corretto, ma ascolteremo poi la professoressa Silvia Tognolo. La parola e il concetto giuridico sono importanti perché conoscere una parola in una lingua non significa saper utilizzare la lingua per i bisogni del diritto. Tutti conosciamo i falsi amici, ma i falsi amici esistono anche nella lingua giuridica. Magistrate e magistrato è un classico, ma delinquent non significa delinquente, ma è in italiano, è in inglese, adesso non so se questo vale tanto per il linguaggio giuridico inglese quando statunitense, delinquent non è un sinonimo di delinquente. Per cui, a differenza della lingua naturale, perché il linguaggio giuridico è importante? Perché il linguaggio giuridico non ha funzione di mera comunicazione come la lingua ordinaria, ma è dotato di effettività normativa, produce effetti giuridici. Questo significa che quando il giurista occupa determinate posizioni, è un giudice ad esempio, o fa parte di una commissione avente funzione normativa, ridige le leggi, una parola può cambiare idealmente la vita di migliaia di persone. Per cui è necessario fare molta attenzione all'uso della terminologia giuridica. Per cui il giurista consapevole, soprattutto al giorno d'oggi, è un giurista che usa consapevolmente le parole del diritto. Ed è questa la ragione per la quale nella vostra formazione questa facoltà dà molto spazio agli insegnamenti di linguaggio giuridico. Bene, ora lascio la parola alla collega ed amica professoressa Silvana Dalla Bontà che è la, come ho anticipato, la delegata per la didattica della facoltà di giurisprudenza. Buongiorno a tutti, anche da parte mia e mi riallaccio a tutte le riflessioni profonde che la professoressa Ioriatti ha svolto, introducendoci al tema del linguaggio giuridico. Per sottolineare, in qualità quindi delegata alla didattica, come oggigiorno sia assolutamente indispensabile la conoscenza, l'apprendimento e la conoscenza, da parte di studenti in realtà di qualsiasi facoltà, di una pluralità di lingue. Non solo quindi la propria lingua nativa, magari ormai obbligatoriamente la lingua inglese, ma anche altre lingue. La lingua che la professoressa Ioriatti chiamava la lingua naturale, cioè la lingua, conoscere lingue anche, per così dire, in un linguaggio comune. Ma oggigiorno qualsiasi professionista deve anche sempre più addentrarsi, deve sempre più avvicinarsi durante il suo percorso universitario all'apprendimento del linguaggio tecnico, che per noi è il linguaggio giuridico. La professoressa Ioriatti parlava del giurista consapevole. Il giurista di oggi è sempre più un giurista globalizzato, un giurista che si muove in un contesto che non è solamente quello del proprio ordinamento giuridico d'origine, ma ha a che fare con diversi ordinamenti giuridici. E questo giurista globale deve essere consapevole nel poter avere accesso diretto alle fonti del diritto nella lingua originaria. Ovvero sì, avere accesso alle fonti del diritto che possono essere più diverse. La professoressa Ioriatti parlava del diritto scritto, e possiamo parlare appunto del diritto che viene messo dal potere legislativo, le fonti del diritto che sono le decisioni dei giudici. Tutto questo deve trovare da parte del giurista consapevole un accesso diretto e non mediato da traduzioni che altri facciano nella propria lingua originaria. Perché questo filtro della traduzione, il più delle volte per il tramite della lingua inglese o al massimo della lingua francese, questo almeno secondo le nostre tradizioni classiche e anche per la lingua di lavoro delle istituzioni comunitarie, però può essere forviante. Perché non consente al giurista consapevole di arrivare a comprendere in profondità quello che è il diritto nella lingua originaria. E chiaramente questo accesso diretto alle fonti è la base della reale comprensione di quel diritto altrui. Ed è anche una porta che si schiude verso l'interpretazione di quel diritto e l'applicazione di quel diritto. È chiaro che tutto questo percorso che porta uno studente a acquisire innanzitutto un linguaggio naturale altrui e poi un linguaggio giuridico altrui comporta un percorso lento, faticoso, perché non è facile. Innanzitutto bisogna conoscere la lingua che diceva la professoressa naturale la lingua comune e poi bisogna addentrarsi in una specie di effetto matriosca, bisogna addentrarsi nel linguaggio giuridico. È un percorso faticoso, è un percorso lento che però dà anche grandi soddisfazioni e schiude delle decisive opportunità professionali. Perché questa capacità di accedere direttamente alle fonti permette poi di muoversi in contesti globali che sono contesti multigiuridici con diversi linguaggi giuridici e conseguentemente multiculturali. E la nostra facoltà, come diceva bene la professoressa Ioriati e grazie soprattutto alla professoressa Ioriati, in sinergia con il Centro Linguistico di Atineo, ha da sempre però veramente fortemente sostenuto questa offerta didattica della lingua giuridica anche in ragione, devo dire, della ubicazione geografica della nostra facoltà. La nostra facoltà è la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, il nostro Centro Linguistico di Ateneo è dell'Ateneo Trentino, che si trova in un'area geografica assai prossima ad una frontiera, assai prossima alla frontiera con tutto il mondo germanofono. Anzi, possiamo oggi dire che non siamo neanche in una terra di frontiera, siamo in una terra di euregio, cioè addirittura una regione che travalica le frontiere e che viene costituita come una regione unica, transfrontaliera, in cui si parlano più lingue e adesso qui, su quelle ufficiali dell'Unione Europea, la lingua italiana e la lingua tedesca. E abbiamo avuto già, e qui mi riconduco poi proprio il trade union con il nostro testimonial, abbiamo avuto esempi di studenti della nostra facoltà, alumni della Facoltà di Giurisprudenza di Trento, che proprio usufruendo di questa offerta didattica sul linguaggio giuridico che noi abbiamo promosso, sono diventati davvero giuristi globali e giuristi consapevoli, come diceva la professoressa Ioriatti. Faccio parte del direttivo dell'associazione alumni, UNITN, e posso darvi conferma di quanti nostri ex studenti, grazie a questo apprendimento, sono riusciti a conseguire posizioni professionali molto stimolanti e assolutamente prestigiose. E proprio per questo abbiamo pensato di restituire a tutti gli studenti che si sono rappresentati quest'oggi, quelli online e quelli che vedranno questa registrazione, la testimonianza di un nostro dottore in giurisprudenza che vive una professione altamente stimolante in un contesto multiculturale, multilinguistico, multigiuridico, che è quello del Consiglio dell'Unione Europea. E abbiamo voluto quindi che il dottore Emanuele Barbarossa ci raccontasse la sua esperienza, che cosa fa in questo contesto e quanto sia stato importante per lui conoscere più lingue e padroneggiare più linguaggi tecnico-giuridici. Emanuele, quindi darei a te la parola. Sì, grazie, grazie mille, buongiorno a tutti, grazie dell'invito innanzitutto e dell'introduzione, complimenti anche per il lavoro che svolgete proprio in questo contesto, insomma, mi sembra in piena evoluzione. Io sì, porterei una breve testimonianza, diciamo, della mia esperienza che definirei un'esperienza bipartita, ecco, un'esperienza multifase, quindi il mio rapporto con l'apprendimento delle lingue prima e quindi durante la fase degli studi e poi quella che è stata la sua evoluzione, una volta appunto varcata la soglia del mondo del lavoro, è quella che è la mia esperienza oggi e mi rendo conto dell'importanza proprio di questa dicotomia, di questa evoluzione nel tempo e di questo approccio multifase, perché ogni volta che rifletto sull'apprendimento della lingua e come l'ho vissuto io, come lo sto vivendo ora, mi rendo conto proprio di questo prima e dopo, di questo apprendimento durante gli studi universitari e anche in antecedenza e poi come l'apprendimento in senso globale ma anche poi più in particolare l'apprendimento delle lingue assume una connotazione diversa e altre sfumature quando poi lo si combina con un'attività professionale a tempo pieno. Perché insisto su questo? Proprio per trasmettere un po' l'importanza della costruzione di basi linguistiche solide quando si ha il tempo di farlo. Potrà sembrare banale però io qualificherei diciamo quello che è stato poi il mio apprendimento dell'inglese e di altre lingue durante l'università ma anche prima, quindi proprio in età scolare più o meno avanzata, qualificherei questo apprendimento come un apprendimento lento probabilmente, molto strutturato, molto graduale, si potrebbe a volte anche avere la tentazione di definire tedioso una prima fase della vita quando non non si vede appunto il come dire l'evoluzione di questa ora, di questo paio d'ore di inglese o di altre lingue appunto che si possono studiare durante la scuola media per esempio e però è una fase in realtà molto importante dell'apprendimento con il senno di poi perché costruisce questa prima infarinatura, questa base grammaticale, sintattica sulla quale poi sarà possibile costruire qualcosa di più complesso. Personalmente poi il mio rapporto con l'apprendimento delle lingue si è sviluppato all'università di Trento in maniera che definirei quasi spontanea, io ho sempre avuto personalmente una grande passione appunto per le lingue straniere in quanto tali ma anche poi come proprio chiave di lettura di altre culture umane e giuridiche per l'appunto come stiamo vedendo e perché parlo di spontaneità? Perché riconosco di aver avuto una certa apertura, un certo interesse naturale senza fini particolari, proprio un'apertura nei confronti dell'altro appunto che poi ho manifestato con la ricerca appunto di programmi per esempio di scambio in contesto di Erasmus e quindi periodi di studio e di tirocinio all'estero. Questi periodi mi hanno permesso appunto di approfondire la conoscenza di una lingua straniera o di apprenderne appunto di nuove in maniera estremamente piacevole naturalmente con il tempo necessario e in un contesto multiculturale umano e quindi ancora diciamo lontano se vogliamo appunto da un contesto invece più strutturato, professionale, multilinguistico. Ecco, questo lo dico anche perché forse aggiungo un altro aspetto magari potrà sembrare banale ma non vi è apprendimento linguistico inutile, non vi è lingua inutile. Parliamo qui di lingue, di lingue giuridiche che sono note per l'appunto per la loro ricaduta pratica estremamente rilevante come l'inglese, il francese e il tedesco, però un'esperienza personale appunto mi piacerebbe brevemente condividere è proprio lo studio di una lingua se vogliamo improbabile che è accaduto in maniera spontanea ma forse il vero termine a cui penso è serendipitous in inglese, questa scoperta un po' casuale e fortuita della lingua svedese durante il mio periodo Erasmus. Una lingua che probabilmente la maggior parte delle persone appunto considererebbe poco rilevante professionalmente parlando e che forse avrei potuto considerare anch'io allo stesso modo appunto all'epoca. Però non mi sono concentrato su questo, mi sono concentrato sul suono della lingua, su quello che mi piaceva, sul fatto di averla attorno a me e sull'occasione di apprendere ancora una volta un acquisire una chiave di lettura di una cultura diversa e che magari dopo questo periodo appunto a cui avrei avuto meno accesso ecco dopo questo periodo di di scambio e di studio all'estero. Però la cosa interessante è che se guardo appunto al mio presente questa apertura spontanea ha portato ad una ricaduta estremamente pratica, estremamente rilevante come non avrei mai pensato, non avrei mai potuto pensare. E l'esempio concreto è che io lavoro appunto come consigliere politico al Consiglio dell'Unione Europea e parte del mio lavoro è proprio quello di sostenere la presidenza dell'Unione in carica, la presidenza dell'Unione è svedese. In questo momento io sto attivamente lavorando appunto in svedese con la squadra appunto di lavoro della Svezia nel finalizzare appunto il portare avanti il lavoro giuridico di negoziato e di adozione degli atti giuridici. Ecco quindi per dire lasciamo aperta appunto una porta su quello che è l'apprendimento anche non strutturato quando si tratta di lingue perché in sostanza non si sa mai cosa potrà tornare utile in un secondo tempo. Ecco questo in prima battuta. Più la base è larga, più la base di apprendimento appunto durante la fase degli studi è ampia, più costruiamo in un primo tempo, quando abbiamo il tempo di farlo, più la lingua poi ci restituirà in un secondo tempo. Questa è la mia esperienza e quindi viene da sé che se oltre a queste basi aggiungiamo poi una specializzazione e quindi la conoscenza appunto l'apprendimento della lingua settoriale come può essere appunto la specializzazione giuridica è chiaro che costruiremo una base tanto più solida su cui poi costruire quando si avrà meno tempo una volta inserito nel mondo del lavoro sarà ancora più agevole. Il termine che utilizzerei per descrivere poi questo ritorno della lingua, questa restituzione è automatismo. Perché? Perché in realtà viviamo in sostanza almeno per esperienza personale quello che vedo succedere attorno a me nel mio ambiente di lavoro, viviamo in un mondo professionale in costante evoluzione sempre più dinamico, che richiede un apprendimento permanente ormai. Io non ritengo di potermi permettere di non imparare o di non restare appunto aperto a quelli che sono gli sviluppi prettamente appunto tipici del mio lavoro, del mio, del settore in cui opero, che è quello delle telecomunicazioni digitali, ma in realtà appunto si può fare la stessa considerazione in maniera diciamo globale. E quindi perché appunto un automatismo? Perché la creazione appunto di questa base più larga possibile durante la fase di studi ci permette poi di sfruttare la lingua straniera come automatismo proprio nelle fasi successive della vita, una volta appunto inseriti pienamente nel mondo del lavoro e quindi considerare la lingua straniera anziché come ancora una volta un traguardo da raggiungere proprio come un mezzo per l'apprendimento di altre competenze che possono essere per l'appunto più o meno specifiche, settoriali, ma anche competenze trasversali che sono sempre più più utili appunto nel mondo del lavoro di oggi. Ecco, una volta poi per l'appunto entrati in un contesto professionale che nel mio caso appunto è multiculturale e notoriamente multilinguistico, l'apprendimento come dicevo inizialmente della lingua è un apprendimento che si sviluppa in modo diverso, non è più lento, non è più tanto strutturato, ma è un apprendimento che deve già poggiare su delle basi solide che quindi invece qualificherei come più rapido e che deve essere giustificato. Il tempo a disposizione è inferiore a quello che si aveva prima ed è importante concentrarsi sull'acquisizione delle competenze più spicce e che devono appunto poi essere a portata di mano. Quindi è uno studio finalizzato ad un risultato concreto, per esempio quello che può essere il miglioramento della padronanza appunto della lingua soprattutto settoriale come può essere quello della lingua giuridica. Nel contesto istituzionale in cui opero io il multilinguismo per l'appunto è un ACHI, quindi si tratta di un fondo sostanzialmente, è un prerequisito anche da un punto di vista curricolare, quindi si tratta di conoscenze che in assenza delle quali non si può poi concretamente neppure avere accesso a questo tipo di posizione che per l'appunto può essere poi più in generale quella di un funzionario di un'istituzione europea. Nel caso di specie ciò che mi permette di vedere appunto la mia posizione attuale quindi qui al segretariato generale del Consiglio dell'Unione Europea è una posizione che io poi considero abbastanza privilegiata nel senso che ho la possibilità di lavorare eh di prima mano ehm su quelle che sono eh le ehm gli atti legislativi europei che poi per l'appunto vengono eh adottati eh a livello europeo e naturalmente eh eh impattano sulla vita di mezzo miliardo di persone naturalmente quindi ehm qui eh la la sostanza diventa eh diventa estremamente rilevante la conoscenza linguistica è eh diciamo globale è eh come dire ehm data per scontata eh la conoscenza giuridica eh dell'inglese, del francese e del tedesco eh diventa eh strumento di vitale importanza proprio per poter operare su quello che è il eh testo appunto di diritto eh l'atto ehm legislativo nella maggior parte dei casi appunto che eh ci arriva eh dalla commissione come dalla commissione europea appunto in forma di eh proposta eh di legge e che poi noi qui in consiglio appunto negoziamo ehm internamente eh da prima appunto tra tutti gli stati membri e una volta che eh si è raggiunta una posizione eh comune quello che viene chiamato tecnicamente approccio generale eh attorno al ehm all'atto legislativo poi comincia una fase esterna di negoziato con l'altro colegislatore europeo che è per l'appunto il Parlamento europeo e che rappresenta i cittadini e il fine è naturalmente quello di adottare eh nel miglior modo possibile in maniera più efficiente anche più rapida eh un atto legislativo che poi dovrà essere appunto eh pubblicato eh dovrà entrare in vigore e eh dovrà applicarsi eh per un per molti anni. Ecco ehm volendo terminare su qualche eh considerazione appunto eh più specifica ehm le lingue che ho citato appunto sono inglese, francese e tedesco questo perché eh per l'appunto sono eh le lingue ufficiali eh di lavoro delle istituzioni europee vengono adottate eh diciamo in maniera eh l'una può essere preponderante rispetto ad altra appunto a seconda dell'istituzione eh la lingua che definirei veicolare eh per noi o per la commissione forse anche anzi in primo luogo è l'inglese ehm resta appunto lingua veicolare anche per eh il consiglio eh con notevole notevoli eccezioni in realtà perché esempio appunto è eh la la stessa esperienza eh vissuta l'anno scorso con durante una presidenza francese che ha invece spinto moltissimo la propria lingua come lingua di lavoro eh quindi nonostante il fatto che appunto l'atto legislativo eh stesso eh fosse in lingua inglese in realtà la maggior parte del lavoro eh è stata svolta in francese l'anno scorso durante la la presenza francese nella primo semestre ehm il tedesco eh notoriamente eh svolge una eh funzione eh fondamentale eh eh nella quello che è il quacervo delle lingue europee eh per presenza innanzitutto quindi per numero di di parlanti ma anche eh istituzionalmente parlando perché in realtà il numero di germanofoni in particolare nel eh parlamento europeo è estremamente rilevante tanto da eh imprimere eh una certa ehm svolta in quelli che sono eh appunto i lavori anche a livello di commissioni parlamentari ehm proprio perché eh appunto molto della ehm molte attività si svolgono eh appunto in in lingua tedesca eh viene da sé appunto come l'ho già sottolineato prima che una conoscenza approfondita eh di queste lingue in particolare e eh di eh tutto quello che è il ehm l'aspetto eh giuridico e quindi l'aspetto tecnico alla fine permette di fare la differenza tra il poter operare appunto poi direttamente sul eh sul testo di legge ehm oppure no ecco insomma quindi mi mi fermerei mi fermerei qui eh spero di aver contribuito intanto con qualche elemento resto eh molto volentieri a disposizione naturalmente per eventuali domande o o chiarimenti. Grazie grazie Emanuele e credo che insomma come abbiamo detto in altri contesti l'esempio concreto è sempre diciamo ha una sua vividezza e una sua potenza eh che ovviamente magari anche i discorsi astratti non hanno e quindi credo che per gli studenti qui presenti e che ci seguono a caso chi rivedrà la registrazione vedere concretamente come eh la padronanza di linguaggi giuridici segni la professione di chi poi eh da un punto di vista anche anagrafico e più vicino a loro sia eh estremamente estremamente importante e adesso quindi passiamo alla illustrazione eh di questi insegnamenti grazie io vorrei eh ringraziare eh Silvana la professoressa Dalla Monta per le sue considerazioni molto sagge e anche Emanuele Barbarossa grazie davvero per queste per questo spaccato di realtà che peraltro se mi posso permettere un commento eh sembra che la conoscenza di molte lingue e la pratica di molte lingue abbiano addirittura ampliato la la base del suo italiano che è veramente eccellente eh per cui viene anche in questo caso sfatato il eh diciamo la leggenda metropolitana secondo la quale il molti linguismo in realtà indebolisce la lingua madre non mi sembra questo il caso per cui grazie anche anche per questa testimonianza ehm ora io ehm passando alla lingua giuridica francese della quale naturalmente non sono docente eh vi porto i saluti della professoressa Virginia Net che oggi non può essere presente perché impegnata appunto nell'insegnamento del francese presso il CLA e la professoressa Alnet mi ha pregato di eh informarvi del fatto che i corsi di francese giuridico eh sono rivolti a studenti interessati ad acquisire conoscenze naturalmente ehm teoriche ma soprattutto competenze lessicali le relative al linguaggio giuridico francese in generale per cui non solo il linguaggio giuridico della Francia ma anche di ordinamenti eh giuridici diversi e il abbiamo un primo corso di livello B1 che è concepito come un'introduzione al linguaggio giuridico francese ed è diretto ad acquisire il lessico essenziale e le espressioni giuridiche fondamentali ossia la fraseologia la terminologia del linguaggio giuridico francese anche attraverso esercitazioni pratiche requisito di ammissione alla conoscenza del francese di livello A2 che quest'anno da quest'anno ma ne parleremo può essere certificata ossia è possibile accedere all'insegnamento eh non come in precedenza eh depositando un certificato internazionale di conoscenza della lingua francese A2 ma con il superamento del test di piazzamento CLA per cui abbiamo facilitato l'accesso ai corsi di linguaggio giuridico ma poi ne parleremo anche in riferimento agli altri lingue. L'insegnamento di francese giurico B2 eh per cui un secondo livello di insegnamento ehm viene svolto attraverso lo studio di documenti ufficiali per cui testi, legislazioni e sentenze ma altresì con l'utilizzo di materiale multimediale come ad esempio video e è diretto a eh veicolare eh l'apprendimento non solo del contesto storico e culturale che ha generato la cultura giuridica francese e francofona ma consente anche di riflettere in prospettiva dialogica sulle similitudini e le differenze linguistico giuridiche tra il sistema giurico questa volta francese ed italiano. Inoltre esercizi ed analisi di temi di attualità daranno a voi studenti la possibilità di mettere in pratica le le nozioni e il lessico acquisiti. Ecco la eh professoressa Annette eh conclude eh considera con un diciamo con una un invito eh rivolto a voi eh in quanto considerate l'importanza del francese in quanto lingua ufficiale di numerose istituzioni internazionali europee l'acquisizione del lessico giurico francese costituisce un'opportunità per arricchire la vostra carriera non solo universitaria ma anche professionale per cui è uno strumento eh nella cosiddetta con una metafora cassetta degli attrezzi del eh del giurista del giovane giurista di oggi. Ecco poi per mh ulteriori informazioni la professoressa Annette vi invita a leggere il syllabus dei corsi che troverete sul sito del CLAA oppure a contattarla eh via email alla alla all'indirizzo virgini punto al net chioccia l'unitm punto it continuiamo con la carrellata eh delle presentazioni della nostre docenti eh presso il centro linguistico di Ateneo eh dei vari eh linguaggi giuridici e dopo la restituzione della professoressa eh di francese che eh la professoressa Ioriatti ha letto passiamo alla presentazione da parte della dottoressa Silvia Tognolo docente eh di tedesco e eh di tedesco giuridico presso il centro linguistico di Ateneo. Grazie molte ringrazio la professoressa Ioriatti per l'organizzazione di questo importante eh momento di riflessione ringrazio la professoressa dalla bontà e naturalmente gli studenti le colleghe che hanno deciso appunto di partecipare a questo eh evento importante di sensibilizzazione di ciò che è appunto il linguaggio eh noi in tedesco diciamo di Fachsprache. Riprendo proprio i concetti eh menzionati in precedenza ovvero eh Fachsprache in tedesco rende proprio l'idea della lingua che eh diventa espressione di un Fach ovvero proprio di un eh un insegnamento specifico quindi standard sprache effettivamente tutto ciò che costituisce il linguaggio comune e e che diventa la base sintattica morfosintattica fonetica di quella che è poi la Fachsprache che si riallaccia proprio i contenuti specifici di una lingua. Riprendo anche il concetto dell'allenamento e della Weltanschauung. Allora l'allenamento progressivo interessante perché appunto eh per poter gestire una competenza linguistica è necessario l'allenamento che in didattica noi chiamiamo sempre più spesso training ma mutando proprio il termine dall'inglese c'è un allenamento come se le abilità ricettive quindi la lettura e eh la comprensione orale fossero allenabili assieme alla produzione scritta la produzione orale quindi l'allenamento linguistico diventa proprio innanzitutto un training di lingua che si poggia sulla lingua standard e diventa uno strumento di conoscenza quando la lingua si lega a delle materie specifiche in tedesco appunto fecha quindi un allenamento che prevede sia l'esposizione orale a testi parlati di questo noi ci occupiamo durante eh gli insegnamenti proprio della lingua giuridica quindi alleniamo tutte e quattro le abilità ricettive produttive in un contesto di autenticità quindi usiamo contenuti audio video testi scritti che rappresentano come diceva la professoressa Ioriati all'inizio l'evoluzione della lingua quindi la lingua vista proprio in un contesto dinamico di espressione di fatti sociali e giuridici che stanno coinvolgendo i paesi nel mio caso specifico germanofoni quindi Germania e i vari land Austria e anche la Svizzera. Riprenderei un concetto molto interessante legato alla visione ehm alla Weltanschauung diciamo in tedesco ovvero ogni lingua diventa uno strumento di allenamento di competenze trasversali quello che anticipava il professor e il dottor Barbarossa nel collegamento precedente ovvero la lingua nello specifico anche la lingua tedesca che sembra una lingua complessa all'inizio che può spaventare per un suono che si differenzia dalle lingue romanze naturalmente che si lega al ceppo germanico quindi più vicino all'inglese in realtà riuscire a superare un iniziale timore di qualcosa che noi non conosciamo che rispetto ad esempio alla formazione delle lingue romanze ci sembra anche a livello di suoni così diverso dall'abitudine così diverso da ciò che già conosciamo diventa un allenamento di competenze trasversali che diventano proprio le nostre life skills no quindi che incidono il nostro modo sul nostro modo di pensare di vedere il mondo nel tedesco nel nello specifico alleniamo l'ascolto attivo si parla tanto adesso dell'importanza di allenare l'ascolto perché eh la struttura della lingua stessa ci impone di ascoltare fino all'ultima parola molto spesso in tedesco la negazione sta in fondo quindi noi non possiamo ascoltare solo l'inizio e iniziare a parlarci sopra quindi la lingua diventa proprio uno strumento di allenamento del pensiero e questo è l'aspetto divertente forse anche se possiamo dire così di metterci anche un pizzico di curiosità che esula solo dalle strutture lessicali grammaticali morfosintattiche che naturalmente accompagnano la lingua ma diventa proprio un allenamento di stile comunicativo uno stile comunicativo che inizialmente ci può risultare diverso quindi il tedesco proprio ci abitua a dover ascoltare e anche a un linguaggio non verbale rispetto a quello abituati eh no se proveniamo da un contesto italofono perché appunto nel tedesco c'è un altro modo proprio di articolare sia a livello verbale che non verbale e anche il tono della voce no diventa un allenamento perché effettivamente è un'intonazione diversa quella che utilizziamo quando parliamo in lingua tedesca quanto il corso specifico in sé eh vale la stessa cosa che dicevamo prima per la collega di lingua francese ovvero il livello richiesto è a due con test interno al clà di piazzamento perciò è un test che effettivamente dà la possibilità anche di accedere agevolmente al corso il corso è strutturato in due incontri settimanali eh trovate tutti i dettagli sul sito del clà i materiali sono autentici e corrispondono ad un livello di padronanza linguistica B1 quindi pur essendo materiali autentici sia audio che di lettura sono tarati ad un livello B1 eh è strutturato in forma di laboratorio quindi ehm si lavora a coppie interveniamo sui testi e soltanto partendo dai testi stiliamo poi dei glossari tematici per acquisire il lessico specifico quindi partendo da una padronanza della lingua standard per arrivare alla fachsprache quindi al linguaggio sempre più settoriale consiglio vivamente come è stato detto in precedenza di ehm usufruire di questo periodo di studio dei corsi che il clà propone proprio per quanto riguarda anche il tedesco visto che abbiamo detto un allenamento quello della gestione della lingua della padronanza linguistica di allenare la lingua usufruendo di vari livelli linguistici quindi rinforzare senz'altro quello di partenza approfittare del linguaggio giuridico che viene proposto di cui poi non c'è più tempo una volta finito lo studio quindi far buon uso del tempo considerando proprio la formazione a tutto tondo quindi la possibilità anche di usufruire delle lingue proposte dal centro linguistico e nello specifico presso la facoltà proprio per allenare competenze che costituiscono che faranno parte proprio degli strumenti necessari al futuro giurista consapevole e globale appunto da una visione sempre più interculturale sempre più orientata ad interagire con futuri colleghi di lavoro che provengono appunto da altri paesi che ormai sono in contatto costante con noi come diceva anche la professoressa dalla bontà abitiamo tutti la regione euregio quindi non ci sono nemmeno più non ci sono nemmeno confini e quindi diventa assolutamente un'opportunità da cogliere e vedere la lingua proprio come un nuovo modo di pensarsi come uno strumento di leggere la quotidianità e di ripensare anche il proprio modo di esprimersi quindi che diventerà sempre più espanso sempre più arricchito dalla pluralità di lingue che noi acquisiamo e nelle quali ci alleniamo quindi in una Weltanschauung sempre più cosmopolita vi ringrazio e lascio la parola alle colleghe e alla professoressa Ioriatti grazie per qualsiasi domanda sono a disposizione e ulteriori dettagli li trovate sul sito del club grazie molte bene prima di ripassare la parola alla nostra moderatrice la professora dalla mutà volevo ringraziare la professoressa Silvia Tognolo che come avete compreso oltre a essere eh una grande esperta di lingua eh è anche un esperta di comunicazione di comunicazione multiculturale e volevo attirare la vostra attenzione su un aspetto io stavo riflettendo mentre ascoltavo la professoressa Tognolo come la lingua è strettamente legata alla cultura eh ad esempio una eh diciamo che leggendo eh i tuoi scritti che io frequento con abitualmente eh ho scoperto degli aspetti relativi alla comunicazione culturale eh uno degli aspetti che ho appreso è che vi sono dei contesti in cui la comunicazione segue delle regole diverse da quella italiana ad esempio noi italiani siamo abituati a interromperci in continuazione in altri contesti inglese ma anche tedesco questo è segno di maleducazione allora mi chiedevo se questo è dovuto anche alla lingua il fatto che i tedeschi sono abituati a aspettare fino all'ultima parola ma questa è una battuta eh ma volevo veramente ringraziarti per quanto stai dando alla facoltà al CLAI per tutto eh l'apporto eh diciamo delle tue competenze un'ultima considerazione e poi eh passo subito la parola a professoressa della bontà ma eh invito anche lei a a unirsi a questa considerazione eh la lingua tedesca è una lingua che come diceva poco fa la professoressa Antoniolo può spaventare inizialmente eh io dico sempre eh agli studenti eh il lo spagnolo sembra molto più accessibile rispetto al tedesco ma credo sia accessibile all'inizio perché dà una buona soddisfazione nella prima fase ma poi è una lingua difficile come l'italiano ecco non sto dicendo che il tedesco sia facile dopo il primo step ma il tedesco è una lingua comunque molto regolare eh che diciamo eh richiede un'applicazione che forse è più vicina allo studio della matematica diciamo in certi in certi a certi livelli ma che poi segue delle regole abbastanza chiare eh e per cui può essere anche esercitata autonomamente a casa eh con la lettura mentre l'inglese ad esempio è una lingua molto più dinamica una lingua che richiede molto più eh la necessità di essere immersi in una realtà e il tedesco è una lingua molto importante eh soprattutto in questo contesto perché lo ricordava poco fa la professoressa Dalla Bontano e siamo una realtà di confine questa realtà di confine comporta naturalmente tutta una serie di possibilità culturali che sono le più importanti ma anche delle ricadute professionali altrettanto importanti il tedesco è uno strumento professionale importante in questo contesto bene eh passo nuovamente alla parola Silvana ecco e su questo profilo professionale dobbiamo dirlo cioè ovviamente eh non solo siamo vicini ovviamente al mondo austriaco svizzero e tedesco se pensiamo che in quattro ore di tre anno siamo a Monaco di Baviera e per andare a Napoli ci mettiamo più ore quindi immaginate quali possibilità si aprono per una persona che per uno studente che impara anche epidermicamente la lingua tedesca di poter svolgere poi eh un tirocinio un erasmus in una in una realtà che comunque è tutto sommato assai vicina e che schiude delle porte ma poi abbiamo anche tutto il mondo altoatesino cioè se noi io ora sono docente di diritto processuale civile e non può che eh venirmi in mente la pratica forense come avvocato in uno studio legale in cui anche Bolzanino in cui ovviamente si usa sia l'italiano che il tedesco il superamento dell'esame eh di accesso alla magistratura che è separato rispetto a quello nazionale e che si svolge separatamente a Bolzano eh chiaramente queste sono delle opportunità adesso l'ufficio per il processo eh ufficio per il processo vuol dire che lì è tutto bilingue perché forse gli studenti devono ricordarlo che la lingua processuale quando il processo si svolge presso il tribunale di Bolzano è sia l'italiano che il tedesco quindi uno può stendere l'atto di citazione l'atto introduttivo del processo in italiano e la controparte può rispondere con una comparsa di costituzione risposta in tedesco perché sono entrambe lingue processuali ecco io credo che questo sia un profilo assolutamente da tenere presente che non può essere dimenticato in una realtà del genere ma che deve essere visto come valorizzato ci ho detto lo diciamo perché sottolineiamo questo non perché le altre lingue siano meno importanti lo è il francese l'avevamo detto la presidenza francese ha portato ad utilizzare più il francese che l'inglese eh l'inglese va eh praticamente di default lo spagnolo perché è una è la lingua più parlata credo del mondo no o la seconda dopo il cinese ecco sì ecco il cinese certamente per cui eh queste lingue ma come seconda lingua quindi chiaramente però sottolineiamo questo aspetto solo perché è vicinore da un punto di vista geografico di eh possibilità professionali e adesso quindi diamo la parola se non erro secondo il programma eh a Leonor Hernández Diaz docente di lingua spagnola sempre presso il nostro centro linguistico di Ateneo Leonor Hernández Diaz Sì molto bene ringrazio per l'invito ringrazio anche gli studenti per la loro presenza e niente io mi occupo del corso di linguaggio giuridico in spagnolo e che avremo anche due volte alla settimana eh con l'orario dalle undizi a luna martedì e giovedì da credo che i corsi partano a metà da metà a febbraio e finiscono questi sono dati un po' più finiscono a metà di del mese di maggio e il corso di spagnolo giuridico si concentrera sicuramente su questi aspetti soprattutto lessicali di sintassi e anche di tipologie testuali sia orali che scritte e non voglio aggiungere cose che hanno già detto le colleghe ripetere tutti gli aspetti no della importanza di sviluppare le quattro competenze ovviamente e di particolare con lo spagnolo come aveva già accennato la professoressa Ioriati ci sono questi falsi amici sono terribili sono no i nostri nemici possiamo dire nelle lingue esatto e soprattutto eh tra lo spagnolo e l'italiano ci sono tantissimi no allora uno dei miei compiti sarà accompagnarvi un po' in questa giungla no da per capire no eh in duri in traintendimenti no credere sempre dico credete di aver capito però state attenti perché bisogna fare una riflessione più no eh profonda e vedere le differenze magari non differenze al primo sguardo ma differenze di facettature sì ma perché succede spesso che abbiamo le definizioni del concetto e ci sono le accezioni no eccezioni no eh ogni significato per quel concetto accepzione accepzione noi magari ne abbiamo tre eh in italiano sei in spagnolo e la prima non coincide perché l'uso più frequente di quel termine lì non è uguale in ambe due le lingue no esiste il termine professoressa mi chiedono sì esiste però non si usa né nello stesso contesto né nello stesso modo né nella stessa e questa questa è la difficoltà ma il termine corretto l'ho cercato su internet no o me l'ha dato la traduzione di un qualsiasi dizionario online è questo no che sul uno degli aspetti su cui ci fermeremo per chiarire quando sì quando no no perché è molto importante è importante forse lo spagnolo non si trova tra una delle lingue più usate soprattutto a livello delle istituzioni europee ma sì a livello più mondiale diciamo l'importanza che sta anche acquisendo a livello degli Stati Uniti dove sta diventando no la seconda lingua più importante è imparabile no questo effetto e quindi secondo me sarà molto importante avere la possibilità di leggere documentazione e bibliografia per eventuali ricerche anche in lingua originale poterle leggere proprio in spagnolo senza il bisogno di eventuali traduzioni o documenti no di di mediazione poter fare una ricerca nelle lingue originali dei documenti della bibliografia niente non ho molto altro da aggiungere vi aspetto spero di vedervi se è possibile e vi ringrazio di nuovo a tutti grazie molto Eleonore anche a te perché per aver diciamo sottolineato in pochissime parole la specificità invece del tuo percorso linguistico io volevo solamente ricordare che non solo la Spagna dove immagino voi sappiate che molti vostri colleghi si sono trasferiti per esercitare ad esempio la professione di avogado si pronuncia ma esistono delle aree del mondo dove c'è una forte condivisione scientifico-giuridica con l'Italia che è il Brasile ad esempio dove vi sono state diciamo della una forte circolazione dei modelli italiani anche nella codificazione processuale civile per cui ci sono delle aree dove la lingua giuridica spagnola non della Spagna ma di altri ordinamenti giuridici può aprire molte possibilità anche di ricerca per cui grazie molte Eleonore per il tuo Sud America è un mondo dove gli studi giuridici italiani sono assolutamente guardati come dei fari sia da un punto di vista storico che anche attuale quindi è un mondo tutto veramente da scoprire ma anche da tenere in seria considerazione per gli italiani ancora oggi sicuramente Libman, Carneluti, Calamandrei però anche gli studiosi adesso di diritto attuali sono sempre letti in Sud America e quindi questo rende anche per chi vuole percorrere come dice la professoressa Ioriatti un iter di ricerca di tenersi aperta alla conoscenza della lingua spagnola ad alto livello perché poi anche in Brasile tutti conoscono lo spagnolo ovviamente tantissimi pure usandosi il portoghese ma poi lo spagnolo è conosciuto diventa uno strumento anche lì di apertura di un mondo professionale accademico quindi effettivamente dobbiamo sempre agganciarlo a qualcosa di concreto e a delle future professioni che i nostri studenti possono svolgere e adesso abbiamo la lingua inglese che abbiamo volutamente tenuto per ultima perché chiaramente è la lingua che a cui tutti i nostri studenti guardano perché ormai è una lingua necessitata e quindi invitiamo le docenti di lingua inglese Kelly Helmut e Jennifer Hill qui allora adesso interrompiamo questa condivisione e invece lanciamo attendete un attimo che adesso la prima poste qua e in un altro vero in un altro ecco sì vediamo potremmo aspettare questo e qui adesso però vediamo se devo forse rinterrompere perché secondo me non lo vedo eccolo qui e poi facciamo ok good morning we're going to switch to english just because our italian for in both of our cases is is not as strong bring it closer okay um so yeah we're going to switch to english because a i know that most of you understand me in english because i teach you every semester and b are in both of our case well i should speak for myself my italian is definitely going to confuse you more than help you understand so um yeah we start with sort of this idea of why should i learn this language with the um focus on the legal aspect of the language and the language that's used in that arena is i think ellen did a particularly nice job of spelling out the importance of actually understanding the context in which the language is used um so a couple of years ago we actually had a colleague who's now retired take a poll of the students um and she asked them why are you taking legal english and um she discovered that the number one reason was that students wanted to participate in um exchange programs okay so if you're going to go into an exchange program where you need to actually focus upon uh understanding what your professors are presenting you it's particularly important not just that you speak english but that you understand that english is uh the terminology used within law is specific to the systems in which it's used we have this whole uh sort of discussion within the legal english arena of eu speak which is the language the language of english used within the eu which is slightly different than how it's specifically used in the uk or in the u.s right um so let me just back up and say that um jennifer and i are both attorneys from the u.s jennifer practiced in new york mostly or new jersey or new york and i practiced in wisconsin and uh did everything but practice in colorado i worked at the court in colorado um so that's our world that we come from in presenting this class um but uh we actually i think um realize that for you all part of um the reason that you're taking this class is the reasons that we've listed here right um and we're very cognizant of the fact that what we need to do is just make you aware that there are uh uses of the language that are specific to the legal arena within each context but can also be generalized in a lot of senses as well to each of the different systems that they're used in so we're also i think continually in class reminding you that this within the american system even i can say sometimes within the u.s in one state this term might mean something a little bit different based on the system right and so we're sort of continually reminding it it's not just important to understand that english comes out of a system or different systems but that even within the u.s for example you can have it uh different depending on which state you're talking about is it wisconsin law or illinois law right for example so um i think we prepare you to do these things pretty well um a lot of you are taking the cheels course and um a lot of students have started to sort of immerse themselves in a little bit of english in the first years they're taking that which i think helps you to understand your other courses um as it's a program taught entirely in english um and then yeah i thought we had a great example um with our guest um about why it's uh important for you to realize that a whole bunch of careers open up to you so aside from studying abroad a whole bunch of careers exist at the eu level that would require you to have um multiple languages right not just english of course and italian but um french or german or spanish um at your fingertips and you have you open up this whole world to to different careers that you could do um so i'm gonna let jennifer say something um and so i'm gonna just pass it over and have you well it's something i'd like to to add hello everyone it's yeah usually i don't um stay so far away from my students i like to get closer to you so that we could communicate really well together um but i would like to add to that point about working internationally um my experience before coming to italy was working for a large international law firm and which was headquartered in new york um and because unfortunately as americans we are not very good about learning other languages there were lots of opportunities for those of you coming from other countries who spoke english so we had a lot of international lawyers within the firm um to fill that weakness um that we as americans often have with not knowing other languages um so yeah i just think that it really can open doors and you never know where life is going to bring you i never expected to be living here in italy but just on a personal note my husband graduated from this law school and it was because he came to my law school that we met and got married and now we live here so um yeah i have a special connection to this law school um okay so if we want to move on i think this has pretty much been covered uh specialized lexis meaning words and phrases that you you need to know that we don't necessarily put together in everyday speech but that we use together in legal english legal collocations again collocations are words that often go together we don't say legal school we say law school um formal register making sure that and we we talk a lot about this too because if you're within a british context often you need to be more formal um if you're an american context you need to be prepared for the fact that it may be very informal um and sometimes that can be a little bit shocking um and then of course there are certain grammatical structures that um are used more in legal english um do you want me to yeah no i think um this is true so there are two different levels of the courses and we're going to talk about them in a minute um but these are the components that sort of make up what we're learning on a day-to-day basis we're trying to make sure that the collocations that are commonly you that are acceptable essentially um are actually at your fingertips when you're trying to speak in a legal context right and so part of it is going over them in different contexts and we'll talk about i think in a slide or two which contexts we're going to use those in okay because we sort of differentiate between the um b2 level and the c1 level in terms of the 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 language is what we're presenting in terms of our courses however we have to choose a vehicle and so we choose you know the first level is going to have contract law tort law etc the second level is going to have um different areas of law and we'll show you those oh actually we're showing those right now i guess um we actually have access to the courses we actually have access to the courses based upon um the level of english that you might have coming in um a lot of students take both levels okay so they'll start with the b2 and then they'll follow it up with the c1 mostly because you purchased the book it's an ebook um that we've been using the last two or three semesters um and they purchased the book and so they see the other chapters there and just decide to come back and learn the terminology that's specific to in this in the case of the c1 these areas um and so again we are certainly not a content course in terms of teaching the content of these areas of law it's all about what language is appropriate acceptable and going to make you understandable and actually accurate with your with your use of english um so yeah go ahead okay and so we do um use a course book as a basis for the oh yep we're trying to get to this okay yeah um so we do use a course book but we add a lot of authentic materials too in fact even some authentic materials from our own lives um we bring in a contract um a rental contract that actually signed um years ago and it's full of um this old strange legal language that that um you know you have to pick apart a little to understand um we use videos and then anything that happens to come up during the in the news during that semester um if we're talking about criminal law and i think last last semester was the theranos um uh what was elizabeth holmes was convicted of uh broading investors uh a fraud and uh yeah and she took a lot of money from investors so we talked about about that um yeah yeah and part of that depends on what we find in the news of interest to you all so we find we hear a story as we're listening to the news just because both of us listen to news in the u.s and we think like oh this would be perfect for my students we'll call each other and say oh let's use this right and so part of it is just we try and actually craft it if it's criminal law to use for the the course that it's most appropriate for sometimes in the case of the theranos case we found we found actually aspects that applied to both levels because we took a look at both fraud so in a criminal context and i used it as well in um what did i use it with respect to in this yeah with the litigate with the discussion with the discussion of the sentencing and how it worked and so talking about that part of the process of litigation um so anyway yeah we also mix in some of our own materials um or some materials that are relevant to the current moment um and what else did we want to say we were going to give you a couple examples i know our time is a little bit tight maybe we'll just sort of burn through these quickly um yeah we try and actually get you speaking um and so we do some role plays we actually have some case studies which are really fun for the students they come to class that day they've prepared they know um the case they have some documents they have both the law probably statute as well as the facts of the case they are assigned to one side or the other and you come in and you have to use the english right you're paired with another student you are attorneys for this side you get 20 minutes to prepare your case and then you're paired with two other uh students are paired as attorneys for the other side they get 20 minutes to prepare then you have to come together and try and hammer out and negotiate or negotiate a settlement and that forces you to use the english and it forces you to forget that you're using the english and try and make sure you use it accurately and we walk around and correct you and um try and make sure that you're accessing the the language like we hope um you are and then um during the the criminal um unit one of the activities that we did at the end we talk a lot about different types of crimes potential punishments for those crimes and we did a role play where we grouped students in groups of four one was the convicted criminal this was um after the conviction one is the one is the prosecuting attorney one is the defense attorney and one is the judge and so together um students role played a sentencing trial and um the judge at the end made a decision about the sentence um so just a sentencing hearing and so i yeah these are some ways that we get you speaking and into the role of a lawyer um i think we can skip the rest of this because yeah yeah this we wanted to give you a piece of um what our courses are about we wanted to give you we wanted to focus on uh what our courses are about a little bit and give you the feel for what it might be to take one um you have some spectacular options here right there's four languages you can actually gain some um language capability in and that's pretty special i would say because it's not every university that has legal english and legal german and legal spanish right you're going to find those languages that every universe and legal french by the way um but the fact that you can actually take it and learn about the specific system um and the words particular to to law i think is is a really neat opportunity and so think about taking one of these courses and um you really enrich i think your own understanding of your language you'll see a lot of words that look really familiar right they're going to turn out to be false friends sometimes but other times you're going to say oh wow english really takes a lot of latin roots that i see in italian too right etc so it's it's i think it's interesting in many different linguistically it's interesting it's interesting practically because it gives you some skills that you can take into your future and um i think you have some spectacular opportunities so that's kind of what today was about was to present those to you i hope you understand stood our english all right i forgot to kind of speak slowly i tend to do that um but um yeah good luck to you all and maybe we'll see you in class yes absolutely and if anyone wants the link to our syllabus you can use the qr code here thank you for having us actually present this to um our moderators professors and other guests as well thank you very much kerry thank you jennifer um you probably know that i uh teach only in english in this phase of my career and i'm always shy speaking english when the english teacher are present so attorno al mio italiano ma eh grazie ancora grazie anche perché hm c'è allora sull'inglese naturalmente si potrebbe parlare ore e io non lo farò perché siamo per terminare anzi grazie per la vostra pazienza c'è un aspetto però che volevo sottolineare allora io veramente vorrei avere il tempo come docente di seguire l'insegnamento di linguaggio giuridico e vi spiego perché io insegno anche traduzione giuridica come ricorderete e ho permettetemi la parola predicato per anni ai miei studenti di non utilizzare mai il termine sentence perché è un falso amico di sentenza poi ascoltando le colleghe ho imparato che negli stati uniti si usa sentence per cui anche l'aggiornamento linguistico è importante e questa è solo una delle tante ragioni per le quali questo insegnamento è importante peraltro vorrei anche ringraziare le docenti perché avendo attivato eh nel duemila e diciassette un insegnamento triennale lingua inglese e nella speranza di poter attivare un giorno anche una biennale lingua inglese naturalmente questo corso è un supporto fondamentale bene grazie io ringrazio tutti eh ringrazio anche Silvana alla quale passo la parola e speriamo di vedervi numerosi all'insegnamento di linguaggio giuridico ultima parola eh le colleghe hanno detto spectacular anche economicamente devo dire perché provate a immaginare provate a guardare in google quanto costano i corsi di linguaggio giuridico una volta terminata all'università ce ne sono tanti vengono offerti a bruxelles da vari enti guardate il costo di quei corsi e allora correrete a iscrivervi a questi perché qui certo li pagate nel senso che ovviamente pagate la quota di iscrizione all'università ma è nulla in confronto a quello che pagherete un domani se anche vorrete approfondire quindi io direi che anche questo aspetto economico è spectacular per cui anche questo piccolo profilo di marketing credo che sia assolutamente importante da sottolineare e quando chiuderemo la registrazione ricorderemo anche che potete incontrare la persona della vostra vita perfetto grazie molte e ringraziamo ovviamente anche il nostro Emanuele che sicuramente su tutto quanto abbiamo detto sia sentimentalmente che economicamente assolutamente posso posso mettermi in relazione praticamente con qualsiasi elemento sia stato eh portato all'attenzione di tutti e ancora complimenti per eh lo sforzo che fate e invito ancora una volta tutti veramente a sfruttare le le meravigliose occasioni che che state creando grazie a voi grazie molte e chiudiamo qui l'evento e anche la registrazione grazie